Sicurezza via forestali, 122 milioni di euro risparmiati in tre anni. Sono valutati in 122 milioni di euro in tre anni risparmi derivanti dall'assorbimento del corpo forestale dello Stato nell'arma dei carabinieri e dalla razionalizzazione dei presidi di polizia, 7,9 milioni per il 2016, 58,3 per il 2017, 56,2 per il 2018. Lo indica il decreto legislativo 177 del 2016 pubblicato oggi in gazzetta ufficiale. Nell'ambito della riorganizzazione dei corpi impegnati nella sicurezza, il provvedimento dispone di privilegiare l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Vengono inoltre soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'arma dei carabinieri e i relativi mezzi trasferiti alla Guardia di Finanza a cui viene demandata la sicurezza in mare. Proprio allo scopo di risparmiare risorse sono introdotti processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle forze di polizia. Il decreto sopprime poi il corpo forestale dello Stato che viene assorbito nei carabinieri. Al fine di salvaguardare le professionalità esistenti tra i forestali, viene creato all'interno dell'arma il Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare che ferme restando la dipendenza dell'arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa tramite il Comandante Generale per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'Interno per i compiti di tutela dell'Ordine della Sicurezza Pubblica dipende funzionalmente dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Dei 7.781 forestali attualmente in servizio, 7.177 diventeranno carabinieri, 390 andranno in organico nei vigili del fuoco, 126 nella polizia e 41 nelle guardie di finanza.